Stasera ci facciamo hackerare, stasera facciamo un gioco molto, molto particolare Si chiama Chinito Pet Vorrei far notare che c'è il mio nome utente sul, sul gioco Vado a mettere la mia password? Perché sa la mia password? Vai, my computer Mi apre, mi apre il cosa, mi apre le cose del mio computer No, 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 non ci siamo, non ci siamo No, 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 no Non ci siamo The Internet, welcome to the web Faccio tutti i cazzi di Fabio Minchia, ma sto gioco secondo me mi fa uscire i... Le cose losche che tengo nascoste nel mio pc Video, video, niente, no, 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 no Ce n'erroo, oddio oddio ma no no aiuto sta chiedendo tutte cose ti invita nel suo meraviglioso mondo di divertimento e di eccitamento e certo come sempre l'eccitamento c'entra sempre ai minchia tutto da solo fa qua e raga sala parliamoci chiaro io penso di aver capito cioè sono un programmatore lo so come come possono fare queste cose però mi mette ansia lo stesso è calda e vibrante però questo io lo devo clicca sull'uovo per svegliarlo è carino qual è il tuo nome ma tanto lo sai come mi chiamo io metto vito vado sei sicuro che il tuo vero nome nice mitch piacere di conoscerti vuole cominciare con un po di domande ok qual è il tuo colore preferito green verde ok se tu hai super potere quale dovrebbe essere il viaggiare nel tempo perché se ci pensate con quello potete fare tutto se avessi super potere così potrei sapere più di te diventeremo amici no 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 ma meglio di no chinito meglio di no la mia parola preferita anzi no a non si possono mettere gli spazi vabbè allora arancina è una parola interessante così il very long friendship non lo so metto aiuto possiamo ristabilire questo possiamo restaurare questo mondo salve c'è devo pulire a casa gg 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 pulire che bello pulire ma l'avete visto giusto sembra come nuovo sono bravo a pulire dodi devo pure fare l'imbianchina adesso va bene ecco metto la fa verde ver tutto verde brava giovanna brava mi sento su the sims adesso raga ma vedi te se mi devo mettere a buildare pure su un horror raga che cos'è questo è un cadavere oh no piacere a picchi dopo ora devo costruire giocare cattolo ecco a bicicletta modo fa questo questo che manca mi è arrivata una mail siamo non è non è troppo tardi era spuntato ma abbiamo finito costa cosa ovviamente no ma come nascostante non è troppo tardi no chi nito vuole giocare un gioco con te qualcuno ti sta cercando non farti catturare che vuol dire sta diventando sempre più c'è perché ma me l'ho aperto da solo oh stai calmo ti sto aspettando torna da me ma raga non è che la mia ex è questa funzioni meglio di prima minchia meno male best friends analysis cioè per certo va bene va bene è andato tutto bene per te oggi si puoi dire di esserti divertito sono chinito pet no sto cazzo chi è il tuo miglior amico mi ha inventato il volume del gioco mi ha inventato il volume chi è siciliano lo sa it's not you sto scrivendo da solo ma che ora devo usare paint un'immagine che rappresenta la felicità aspetta 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 dobbiamo farlo bene questo cuoricino figura che un'immagine che rappresenta la tristezza mi fa ooooh perfetto più triste di cosi se more il miglior amico aspetta aspetta il suo miglior amico Tac e tac 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 Ok Un ossicino Si Sembro proprio io Con un Cosa Con l'osso L'ossicino in bocca Una figura che rappresenti me Oh Raga Sono o non sono un genio Un altro L'ultimo Forse l'ultimo L'ultimo Il mio Il mio cibo preferito Pizza Ho una domanda che non avrei mai pensato di chiederti Perché mi stai registrando Stai usando OBS Posso vedere la tua faccia Stasera No No che non mi puoi guardare No 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 Sei da solo Tecnicamente si Però dirò di no Stai giocando un gioco Si Qual è la mia più grande paura Col cazzo Raga mi ha la spu C'era scritto a non rispondere Col cazzo che rispondo Come cazzo ho fatto a chiamarmi? Chi uccideresti? No vabbè Questa è facile Questa è facile Quanti pensieri Pensi di aver avuto? Not your business Sapresti se fossi Se non fossi più in vita? Tecnicamente no Hai paura del buio? No No Vediamo Ma che è sta cosa? Questa Oh Gesù Buonasera Adesso mi entra Mi si compenetra dentro Tutto dentro Mi si compenetra La smetti di muovermi le cose Un calcione culo ti do Vedi se non ti faccio volare fuori Dovunque tu sia Dov' Eh Sì No volevo dire Volevo dire Il caccione culo No No Stai fermo Stai fermo Mi ha detto sono dentro Dentro cosa? Che stai facendo? Che stai facendo? Cioè devo scaricare l'espansione Ma non siamo su The Sims Ha messo Vito come primo nome E-mail Su caminchia Chiocciola 800a.it Mi sono nato ovviamente il Anzi nel 31 febbraio scusami Ho avuto un piccolo lapsus Via Via Pompi Numero 69 Muort Sembra che ti abbia fatto un Deve aprire l'app Chiamata Che è pronto Dei comandi Ma su L'ha aperto da solo E che c***o L'ha aperto da solo Dice che devo riavviare il gioco Io sto Ma Oddio Mi ha levato gli amici di Steam Sto male Io non so che sta facendo Però Non mi faccio domande Il mio mondo Ma come Vito's World? Ma dai Ma è Gardaland Gardaland un po' Un po' inquietante Non ho una idea di quanto mi stia divertendo Uuuu Uiii E' finito E' finito tutto Eee Pure la casa m'ha fatto Ma sono i miei amici di Steam Ce ne sono alcuni che Eee Lui proprio Sì sì Un saluto Caloroso Per queste persone A essere Rettare sangue proprio Ehm Sì Comunque Dicevo Ma queste ali Ah 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 Mi sento male Con chi sta parlando Comunque sta a casa Si glitcha tutto il letto Salendo sopra la scaletta Aspetta The fountain is the key Eeeh Dice che la fontana è la chiave Che finisca Siccome ho creato un posto perfetto per te Mi stavo chiedendo Vuoi stare con me Suuu Si 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 Tu Non era una domanda Vuoi darti un'opzione facile Penso sia il momento Dentro il mio codice Sempre dentro il mio codice Ma cosa Decido io dove entrare Si è chiuso Ragazzi Io farei questa cosa comunque Questo Vestisci E installa Doveroso Secondo me Doveroso 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 Doveroso